Buon sabato, bentrovati da Muoversi in Toscana e da Mauro Ciutini in studio. Personale su strada per lavori, siamo sulla Firenze e Pisa-Livorno, tra Montopoli-Valdarno e lo svincolo Ponte d'Era-Est, la direzione è quella per Livorno. C'è un controllo di velocità in A12 tra Colle e Salvetti e la barriera di Rosignano-Marittimo in direzione di Rosignano. Per quanto riguarda il raccordo Siena-Firenze, si ricordano le chiusure notturne per lavori, Ronario 23-6 tra Firenze-Infruneta e San Casciano Nord, verso Siena, tra San Casciano Sud e Firenze-Infruneta, verso Firenze. Infine ricordo sulla E45, la Bistiberina, c'è uno scambio di careggiata per il rifacimento del manto stradale tra Pieve e Santo Stefano Sud e San Sepolcro Nord in direzione dell'incrocio con Viterbo Terni. È tutto, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze. Comune di Firenze a più tardi. Comune di Firenze a più tardi.